un saluto a tutti a tutti e un grazie di cuore alla fraternità dei frati cappuccini di san giovanni rotondo che ci accolgono e ci danno la possibilità di vivere questo momento in questo luogo che sicuramente ci permette di essere in tanti e al tempo stesso di rispettare tutti i contingentamenti e le distanze sociali per cui questo è bello e grande la nostra riconoscenza per questa ospitalità come vivremo questo pomeriggio che in qualche maniera idealmente apre l'anno pastorale lo apriamo con il passaggio più importante per una chiesa locale che quella di ricevere dal suo pastore le linee guida per il cammino come ascolteremo poi da padre franco moscone queste linee ci accompagneranno per cinque anni per cui siamo di fronte a un progetto pastorale non solo una lettera pastorale ma un progetto pastorale che ci consegna delle linee guida per camminare insieme ovviamente il cammino fatto insieme deve essere sostegno a quella creatività che comunità per comunità comunità religiose comunità parrocchiali possono tirar fuori quindi non deve essere un omologare o mortificare ma a servizio di quella creatività che lo spirito genera in ciascuna comunità e in ogni singolo credente nel suo servizio nel mondo quindi queste linee pastorali le dobbiamo sentire un po come una sorta di ringhiera che ci aiutano a salire la scalinata del tempo delle nostre storie e dei nostri vissuti personali familiari e cittadini a me il compito di dirvi che come vivremo con questo pomeriggio la lettera pastorale è divisa in tre parti queste tre parti vescovo ha desiderato che venissero presentate da tre famiglie perché questo perché per acquisire una sorta di metodologia di fondo cioè far sì che la prospettiva della famiglia diventi sempre più la prospettiva del modo di pensare di progettare della diocesi sto dicendo una cosa che diciamo sempre che ci diciamo da molti anni è la scelta strategica quest'anno di far sì che i primi idealmente a cui venga consegnata lettera pastorale siano state queste tre famiglie che l'hanno hanno letto insieme quindi non abbiamo affidato il compito della lettura solo ai genitori o a uno dei due genitori ma ad entrambi i genitori e anche i figli infatti sono state scelte tre famiglie con figli adolescenti o al massimo preadolescenti universitari in maniera tale da avere già almeno gli strumenti per poter leggere un testo che comunque non è semplicissimo e al tempo stesso in qualche maniera restituire a tutta la diocesi a questa assemblea alcune letture che siano tipiche della famiglia quindi avremo questi tre momenti ecco perché non abbiamo il solito tavolo del convegno ma queste poltrone questo salotto dove una giornalista anna maria salvemini che ringraziamo di tele radio padre pio aiuterà queste famiglie così a raccontarsi dopo aver letto la lettera pastorale quindi i tre momenti la prima sarà sull'icona biblica della trasfigurazione secondo momento su quelle che sono delle letture degli approfondimenti rispetto a i vissuti della nostra società garganica messi in luce appunto dalla riflessione del vescovo e la terza parte sarà prettamente pastorale dove ci verrà consegnato questa strategia pastorale tutti abbiamo bisogno di trasfigurare il nostro cuore verso la logica della sinodalità che significa camminare insieme ma un cammino che lo si progetta lo si verifica lo si ricalibra su le caratteristiche di ciascuno dei camminatori di coloro che compiono questo cammino noi abbiamo delle abitudini ecclesiali che sono anche un po datate stando alla formazione ma che sono anche ataviche rispetto a un cuore che magari viene chiamato oggi alla conversione sinodale per cui davvero l'invito del vescovo a metterci nell'atteggiamento di accogliere il dono dello spirito perché possa trasfigurarci ci deve vedere accoglienti nei confronti di questo dono ma soprattutto veramente disponibili lasciarci portare dallo spirito dove vuole quindi ci vuole tanto coraggio nel lasciarsi portare a qualcun altro e questo è un po l'invito del vescovo bene io non dico altro perché poi sarà il vescovo a presentarci in maniera più diffusa tutto il resto ma adesso cominciamo con l'ascolto delle famiglie invito alla prima famiglia la famiglia principe insieme con anna maria a raggiungerci qui su questo questo questa specie di palchetto sulle poltrone saranno loro la famiglia principe che adesso saranno presentati anche da anna maria salvemini a raccontarci la prima parte della lettera pastorale quella che approfondisce l'icona biblica della trasfigurazione secondo il vangelo di luca grazie allora ben trovati ben trovata alla famiglia principe ben trovati a tutti voi questa è la seconda volta che usiamo questa modalità quella dell'assemblea diocesana in cui i protagonisti si raccontano la prima volta fu con un signor michele castoro che ringraziamo il nostro pensiero va sempre a lui quest'anno ringraziamo padre franco e che arrivato diciamo a mare in tempesta con la sua terza lettera pastorale terza il tema lo già lo ha già annunciato don salvatore abbiamo tre famiglie qui che si racconteranno che diciamo ci semplificheranno anche un po il lavoro di lettura e comprensione della lettera che non è molto semplice almeno io non l'ho trovata confermo conferma quindi insomma c'è bisogno di sì intanto abbassiamo le mascherine siamo a distanza e vaccinati e ci semplificheranno il la lettura e la comprensione dicevo a qualcuno può non piacere la modalità però insomma sospendiamo il giudizio e le conclusioni poi arriveranno da padre franco michele prima la famiglia e la famiglia principe viene dalla cattedrale di manfredonia michele patrizia dominic al mio fianco e maria rossana allora la prima parte della lettera pastorale si sofferma con grazie a padre franco insomma ci fa soffermare proprio sull'icona biblica della trasfigurazione allora vogliamo comprendere visto che quando diciamo trasfigurazione trasfigurazione ci porta a pensare ma soprattutto a fare un cambiamento dove lo sguardo è protagonista ma anche l'ascolto allora io parto da michele che è capo famiglia e chiedo quanto come si pone una famiglia cristiana di fronte a questa icona sì grazie allora noi siamo partiti da una riflessione di fondo cioè quella che è la famiglia e la famiglia è definita anche nella familiaris e consorzio ecco grazie come una comunità di persone in relazione tra loro fondata sul vincolo dell'amore già qui due parole relazione e amore perché la famiglia si configura come una relazione sociale piena cioè il ruolo della famiglia va oltre quella che la funzione o che le viene assegnata di volta in volta ma diventa un ambiente che favorisce la crescita e la formazione dell'individuo che si trova al suo interno favorisce la crescita e la formazione dei coniugi la crescita e la formazione dei figli e lo fa attraverso diciamo un linguaggio comune che è quello dell'amore che di volta in volta viene declinato secondo alcuni aspetti che sono il dono reciproco quindi io accolgo te vi accolto me come la reciprocità come la sessualità e come la generatività detto questo che significa significa che all'interno della famiglia è possibile la trasmissione della fede la trasmissione della fede che è una delle missioni che viene assegnata alla famiglia con il sagramento del matrimonio che viene assegnata ai coniugi ed è intesa principalmente come trasmissione della fede verso i figli ma anche come trasmissione della fede verso la società e verso la il luogo in cui la famiglia stessa vive e opera e quindi diciamo qui abbiamo già una prima prima un primo indizio cioè attraverso come fa la famiglia a trasmettere la fede sì c'è un annuncio esplicito della della fede attraverso diciamo appunto la partecipazione attiva all'interno della comunità e poi c'è una trasmissione della fede legata alla testimonianza perché diventa efficace questa trasmissione della fede quando è vissuta con la testimonianza attraverso dei gesti che possono essere l'aiuto verso altre famiglie l'attenzione verso i poveri e tante altre forme di carità che la famiglia può attuare senza esibire simboli in maniera così esplicita ma nel silenzio da servi umili e quindi testimoniare in questo modo vuol dire lasciarsi trasfigurare lasciar vedere la bellezza del volto di dio che c'è nella relazione nell'amore dei coniugi attraverso l'amore reciproco attraverso questa testimonianza la famiglia si lascia trasfigurare e uso questo questo verbo lasciarsi trasfigurare perché chiaramente non è che la famiglia si trasfigura perché chi ci trasfigura è cristo lo dice anche san paolo san paolo lo ripete sempre cristo ci salva nella lettera ai filippesi lo dice espressamente io ho segnato un piccolo appunto in cui filippesi 3 20 21 e il quale trasfigurerà quindi il signore gesù trasfigurerà il nostro misero corpo per conformarlo al suo corpo glorioso in virtù del potere che egli ha di sottomettere tutte le cose attraverso la l'icona biblica del attraverso il brano del vangelo che abbiamo letto gesù ci indica ci fa vedere a cosa porterà la sua sequela quindi ci fa vedere la bellezza della gloria che ci attende questo semina nei nostri cuori un grande messaggio di speranza un grande messaggio di di forza perché ci dice nonostante possano esserci dei periodi bui nonostante possa per quanto possa essere brutto il male noi non dobbiamo perdere la speranza perché ciò che ci attende seguendo lui è questo la gloria di dio la gloria di dio che naturalmente il peccato cerca di nascondere come fa la famiglia a seguire a seguire gesù in questo senso nello stesso brano vengono indicati tre passaggi specifici che valgono per la famiglia come valgono per per tutti il primo è e salire sul monte qui grazie padre moscone per averlo sottolineato nella sua analisi questo salire sul monte insieme a gesù vuol dire dare una risposta accogliere la sua chiamata salire sul monte con lui vuol dire dire sì vengo ti accompagno gesù chiama chiami tre giacomo giovanni e pietro e loro rispondono salgono richiamerà anche successivamente quando ci sarà la passione ci sarà il gesemani e loro lo seguiranno quindi primo passo rispondere a una chiamata secondo passo salire salire sul monte e pregare pregare vuol dire mettersi in relazione con dio sottolineato all'inizio come la famiglia è un un ambito relazionale riuscire a imparare a mettersi in relazione con gli altri ma soprattutto con dio attraverso la preghiera diventa quindi fondamentale per riuscire a a vedere la gloria di dio e poi c'è un terzo verbo che scendere dal monte anche qui abbiamo diciamo un messaggio molto forte perché scendere dal monte vuol dire farsi evangelizzatori portare la parola anche agli altri dopo aver visto la gloria di dio ed essersi lasciati trasfigurare da dallo spirito santo ok salire stare quindi sostare e scendere io a proposito di questo vado da patrizia e chiedo qual è la parte più difficoltosa all'interno di una famiglia salire sostare stare o scendere allora la famiglia in questo momento ha una grande difficoltà che è quella di essere un po assopita quindi sale però non sa cosa fare è molto distratta dall'individualismo e dall'egoismo per cui e questo non le fa vedere qual è il progetto di dio per cui è fondamentale che ci sia ma questo non solo nella famiglia in tutti noi la capacità di riuscire a aprire gli occhi aprire il proprio cuore e quindi cercare di vedere quello che è il progetto che ha dio per tutti noi per il mondo per il creato e per per ogni singolo uomo il tabor qual è il tabor all'interno della vostra coppia in questo caso il simbolo della trasfigurazione io lo vedo nel momento del perdono tra la coppia nel senso che è il momento in cui ci si ci si ferma anche se c'è stata una discussione e quindi si chiede scusa una delle tre parole di papa francesco è proprio questa ed è fondamentale diciamo sempre noi con i nostri fidanzati mai andare a letto oppure lasciarsi senza chiedersi scusa quindi il perdono è un momento di trasfigurazione nell'ambito della famiglia ma anche con i figli io ma maria rossana la lascio ok è vero sei contenta e vado da dominic al quale chiedo si è parlato di un percorso no all'interno luca ne parla salire scendere fermarsi qual è la parte più difficile per un giovane come te che sicuramente conosce anche i suoi coetanei può tirare delle conclusioni perché magari a sostare si è comodo però poi ci si annoia allora in realtà il vero problema di fondo è quello di scendere perché la tentazione è forte come quella di pietro maestro per noi è bello essere qui facciamo tre capanne una per te una per elia e una per mosè ebbene più o meno è quello che succede a tutti noi comunque a molti di noi al giorno d'oggi ossia quello di sederci in chiesa e restare fermi in silenzio a contemplare la bellezza di dio che è sicuramente una bella cosa cioè nel senso contemplare appunto contemplarlo appunto è sicuramente bellissimo ma non è questo il nostro fine ultimo perché appunto il fine ultimo di noi cristiani è quello di annunciarlo scendere in mezzo alla gente e annunciarlo perché è facile stare in chiudersi in chiesa a guardare a guardare la bellezza di dio e a spiritualizzare la fede è più difficile andare in mezzo agli altri ad annunciare la buona notizia anche a ricco col col rischio di essere etichettati presi in giro o esclusi nel peggiore dei casi è una zona comfort questa assolutamente dopo la pandemia come è cambiato il bisogno di dio nella vostra famiglia dominic non so se vuoi rispondere proprio tu vogliamo passare a papà allora dopo la durante la pandemia diciamo che possiamo dire che dio è entrato a 360 gradi all'interno della nostra casa anche semplicemente seguendo le messe in diretta streaming diciamo che oppure dicendo la preghiera in sostituzione dell'eucarestia è stato un momento molto particolare diciamo che nella mia vita per quei pochi anni che sono stato qui non ho mai visto è stata una prima esperienza davvero anche per noi sono più anziani comunque sì è stata un'esperienza davvero molto forte in realtà e posso dire che io almeno nel mio caso posso dire di aver aumentato ecco il mio rapporto con con dio il mio rapporto personale perché appunto al posto di andare in chiesa dover relazionarsi con dio appunto in un ambiente familiare mi ha permesso di entrarci in contatto per così dire a tu per tu piuttosto che nel durante la celebrazione che durante questo momento di comunione con l'intera comunità che è stato sicuramente un'esperienza molto molto importante per me comunque c'è papà che vuole aggiungere qualcosa sì anche naturalmente noi l'abbiamo vissuta come tante famiglie diciamo in parte all'interno però quello che secondo me è emerso in maniera proprio evidente è un ruolo di mediazione spirituale che ha avuto la famiglia cioè la famiglia è vero che noi ci siamo un certo momento chiusi all'interno della nostra famiglia però è stato un chiudersi per non aprirsi successivamente abbiamo capito che la famiglia ha quegli strumenti ha uno strumento fortissimo che è quello della di pregare insieme di pregare insieme nella nostra famiglia ma di anche di pregare insieme alle altre famiglie e questo sotto un certo punto di vista è quel seme di speranza che di cui dicevo prima che c'è stato messo nel cuore cioè la famiglia ha una forza spirituale fortissima deve soltanto farsela trasfigurare diciamo dalla 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 sua spiritualità ci siamo riscoperti tutti un po famiglie vive chiese domestiche io con loro avrei concluso se volete aggiungere qualcos'altro questo in pratica è un lavoro già fatto se andate a leggere la prima parte della lettera pastorale loro l'hanno riassunta in maniera molto molto efficace insomma giusta e quindi è una chiave di lettura la vostra che sicuramente potrà arricchire anche il resto della platea leggendo sicuramente troveranno un po meno difficoltà nel comprenderla grazie alla famiglia principe e patrizia dominica e maria rossana la famiglia è famiglia alla marca c'è un volto noto domenico il papà milena i figli aiutatemi stefano francesca e maria ce n'è un'altra in dad che ci segue a distanza è in dad distanza e domenico forse tanti di voi lo conoscono è uno dei pochi uomini multitasking fa di tutto lo vedete lo vedete in piazza lo vedete in giro per le periferie lo vedete su un palcoscenico io l'ho beccato dal benzinaio ieri quindi anche benzina e al distributore gli ho strappato una promessa ci canti una canzone porta la chitarra la chitarra non l'ha portata ma si può cantare anche senza allora niente andiamo avanti seconda parte della lettera pastorale di padre franco terza e si parla di anche del nostro territorio soprattutto del nostro territorio che grida il bisogno di trasfigurarsi e c'è chi lo ascolta c'è bisogno di educare alla legalità soprattutto perché voglio partire proprio da domenico e signi cosa significa puoi educare alla legalità significa prendere coscienza della realtà in cui viviamo se c'è qualcosa che nel nostro territorio non funziona dobbiamo fare un attento esame di coscienza perché poi ognuno di noi ha parte di responsabilità in questo ci sono diverse iniziative nella nostra diocesi nel nostro territorio che mettono in evidenza il bisogno di legalità e la promuovono un'esperienza da raccontare ma tante in realtà ne ha domenico però una in particolare di un campo l'ultimo dove sono stati coinvolti anche diversi ragazzi della nostra diocesi merita insomma di essere ascoltato però parlaci di questo tema che a te è molto caro legalità e lotta alle mafie vai vai che dovrebbe essere già acceso ho detto infatti che l'audio non funziona benissimo allora intanto buonasera a tutti e grazie per l'invito è chiaro che per noi famiglia non è stato semplice eh anche superare eh l'emozione di parlare in pubblico ehm ho letto diverse volte questa questa parte del della nostra della lettera alla nostra diocesi e devo dire che è una lettera coraggiosa che non usa mezzi termini e parla in faccia alle persone e di questo dobbiamo dare atto e così come il nostro pastore ci parla in faccia e ci dice in maniera molto chiara senza usare altre strategie la realtà e la realtà lo dice in un passaggio ci hanno rubato la comunità ci hanno rubato la comunità perché uno dei nostri peccati sono quelli sociali e l'apatia si è sempre fatto così ma lascia stare va bene così e allora uno dei punti era la trasfigurazione della cultura cultura come trasmettere qualcosa come tradizione invece noi bellissimo anche questo passaggio parliamo di tradizionalismo abbiamo sempre fatto così e questo abbiamo sempre fatto così ci ha permesso di durarci le orecchie metterci le mani davanti gli occhi lo ricordiamo bene quando all'inizio del dell'ingresso nella nostra diocesi è stato forte il grido del nostro vescovo e questo è un grido è un grido dire alle chiese dire alle scuole dire a noi famiglie che l'educazione alla legalità non è un'ora o due che si fanno a scuola è un modo di essere è un percorso è un dare dei criteri dare dei criteri di scelta ai nostri figli io ricordo una volta un comboniano disse che lui da piccolo raccoglieva le mele e a casa la sera si ritrovavano con dei misurini avevano delle mele e quei misurini decidevano le mele che dovevano essere usate per la marmellata le mele che dovevano essere usate per metterle al mercato e quelle mele che invece potevano essere mangiate sul momento bene il nostro compito è quello di dare questi criteri e la lezione e la legalità lo dice non è rispettare le leggi perché richiamando anche santo romero che dice che la legalità spesso la legge quel serpente che morde i piedi ai poveri non è rispettare la legge la legalità vuol dire soprattutto creare una condizione di sviluppo sostenibile una condizione di uguaglianza di rispetto dei diritti e soprattutto di opportunità e quindi c'è quel passaggio sui giovani dove dice noi adulti abbiamo il dovere di lavorare per i diritti dei giovani e poi la legalità diventa un compito l'educazione alla legalità che si fa anche con la testimonianza e poi c'è l'invito a non abbassare la guardia da quel dall'uccisione lì a san marco dei fratelli luciani nella nostra terra qualcosa sta cambiando nessuno può dire non esiste anch'io ho sentito che forse padre mosconi lì ha esagerato non è esagerato nel chiamare a dire che questa è una terra di mafia dire che nemmeno in sud america ci devono invece ha fatto bene perché ha mostrato un coraggio se lei l'ha fatto e se anche noi genitori noi educatori iniziamo ad essere testimoni le cose possono cambiare e lo ha detto in maniera chiara non possiamo abbassare la guardia e poi ha fatto degli esempi sicuramente l'esperienza in alcune comunità in alcune comunità dove la chiusura per mafia lo scioglimento deve essere un'opportunità per riprenderci in mano la nostra comunità per iniziare a parlare di bene comune di responsabilità se non avviene questo significa che non abbiamo fatto tanto abbiamo bisogno di segni noi quest'estate devo dirvi con il coinvolgimento di dieci giovani della nostra diocesi insieme ad altri giovani della provincia di foggia insieme all'associazione libera abbiamo fatto un campo lavoro sulla legalità sapete che cosa facevamo la mattina facciamo formazione siamo andati nei luoghi della mafia per vedere e per sentire la storia ma siamo andati anche in quei luoghi di riscatto abbiamo visitato delle cooperative dei beni confiscati alla mafia abbiamo incontrato delle persone e poi abbiamo invitati i giovani a fare solidarietà a fare esperienza di volontariato a riscoprire la bellezza del donare io penso che come genitori questo e come educatori siamo chiamati a farlo merita un applauso domenico coraggioso padre franco e coraggioso anche tu e tu che sei di fronte a tante situazioni così delicate fragili caporalato schiavitù mafia emarginati migranti dove la trovi la bellezza quello sguardo famoso di cui parla sia lì il vangelo della trasfigurazione l'ascolto come fai a intravedere la bellezza in tutte quelle realtà che tu frequenti e di cui hai parlato nel ridare la dignità questa è la bellezza e in un passaggio il nostro vescovo parla di persone parla di dignità parla di rispetto allora dare la dignità ad una donna che è stata vittima di violenza e dargli la possibilità di riscatto io lì trovo la bellezza e del volto delle persone Milena è qui ed è la moglie di domenico con te magari ci soffermiamo sul territorio sull'ambiente e non tutti abbiamo figli come Greta Thunberg no abbiamo figli che non sono sotto i riflettori ma che al creato e all'ambiente ci tengono hanno cura come si fa ad educare alla cura del creato anche qui basta l'esempio basta la testimonianza o c'è un segreto particolare l'esempio è la prima cosa è quella più importante perché si possono dire tante si possono dire tante parole si può partecipare ad iniziative convegni di cose se ne possono fare tante però poi alla fine i figli imparano quello che vedono io per esempio sono stata molto contenta di leggere questa attenzione al territorio al nostro territorio all'ambiente perché l'ho imparato in famiglia io fin da bambina i miei genitori ci hanno sempre portato in giro per scoprire tutte le bellezze che che c'erano no quindi bosco foresta nel mare nei paesi sul subappennino ci hanno sempre tenuto a farci conoscere il territorio a rispettare mi ricordo per esempio quando eravamo piccoli con i miei cugini andavamo a raccogliere funghi e noi vedevamo quelli velenosi e li volevamo distruggere per impedire che potessero fare male a qualcuno e ci dicevano no non si toccano mi diceva mio padre si lasciano lì perché sono utili perché ci sono animali che li mangiano io ho imparato che tutto quello che c'è nel creato non nella natura è sempre bello anche quando ci sembra insidioso pericoloso perché è utile perché contribuisce alla vita in ogni caso e quindi anche anche a casa poi con con loro noi cerchiamo di dare l'esempio facendo delle piccole delle piccole cose perché questa è la cosa bella no importante è che non c'è bisogno di fare chissà quali grandi azioni eclatanti c'è qui no è citata una frase di donpino pugliesi dove diceva che se ognuno fa la propria parte no noi possiamo fare delle grandi cioè facciamo cose grandi ognuno fa il suo piccolo e questa è la stessa cosa che che facciamo noi perché possiamo tutti fare il semplice fatto di fare la raccolta differenziata per per bene o il semplice fatto di non buttare a terra no di non sporcare e se non ci sono i cassonetti ce li portiamo a casa mi ricordo loro quando erano bambini mi prendevano in giro perché la mia borsa era sempre piena di tutte le carte delle caramelle dei gelati che avevano mangiato perché poi a casa le smaltivamo in qualche modo no diceva lo stesso papa francesco in uno dei suoi ultimi discorsi a proposito della trasmissione della fede ma evidentemente anche per quello di cui insomma su quello di cui stiamo parlando non bisogna parlare convincere gli altri a credere in questo caso ecco ad essere responsabili seppur liberi a rispettare l'ambiente ma a fare loro vedono i giovani soprattutto non c'è bisogno di dire nulla si sta in silenzio l'importante è testimoniare fare far vedere sì si impara guardando guardando che è ripeto è la cosa più importante perché quella che che più autorevole no è l'esempio quindi facendo tutte queste piccole azioni anche per esempio il semplice fare la spesa se noi lo sappiamo fare con un con un occhio alla all'ambiente e attenzione questo non vuol dire dover spendere più soldi per comprare chissà che cosa no il prodotto ecologico di ultima generazione noi adesso abbiamo la possibilità di informarci con con internet abbiamo tantissime possibilità e quello è il nostro compito no non dobbiamo delegare agli altri dire io voto per i verdi così no loro ci pensano loro all'ambiente io faccio la donazione al WWF così loro proteggono gli animali no è il nostro gesto di fare la spesa e quindi di scegliere una confezione perché magari non c'è spreco di carta di plastica no c'è una confezione più brutta magari no e che però rispetta l'ambiente no oppure informarsi su quali sono le aziende che rispettano i diritti dei lavoratori e anche i diritti degli animali no questo per esempio è un altro passo molto bello che ho riscontrato che viene da dalla laudato si anche di papa francesco e il fatto che non noi non siamo i padroni di tutto quello che ci circonda ma noi siamo responsabili perché ci sono stati affidati siamo custodi non padroni e quindi noi non dobbiamo sfruttare allora in questo senso tutte quelle sofferenze anche degli animali negli allevamenti intensivi vanno contro questa questa logica e quindi aiutare a trasfigurare il territorio vuol dire anche informarsi sulle pratiche delle varie aziende e quindi acquistare lì dove sappiamo che non so che magari io a casa compriamo solamente uova di galline che sono non stanno in gabbia ma sono libere di razzolare tranquillamente bisognerebbe essere un po più attenti a tutto sì e questa è la parte la seconda parte la vostra parte della lettera pastorale quella un po più corposa e ci sono diversi aspetti diversi ambiti trattati diversi settori io chiedo a Stefano qual è la parte o meglio lo stralcio che ti è piaciuto di più di questa seconda parte è il tema del lavoro perché diciamo oggi dopo oggigiorno è uno dei temi principali per quanto riguarda noi giovani sì perché io personalmente siccome quest'anno ho finito le superiori mi sono diplomato diciamo è appunto uno dei temi principali della mia vita la mancanza di lavoro diciamo non non è il tema è la piaga più principale perché al contrario di come vogliono far pensare i imprenditori grandi e piccoli che siano che dicono che sono i giovani di oggi che non hanno voglia di lavorare o altro ci sono tanti altri aspetti negativi come lo sfruttamento come il lavoro in nero o i vari favoritismi e quindi è compito sia il compito sia della chiesa che di noi credenti non quello di andarci a sostituire alla politica o alle organizzazioni economiche ma il nostro compito è appunto quello di vigilare affinché il lavoro sia messo a disposizione di tutti e non di una piccola piccola parte quanto inciso papà nella tua nel tuo modo di pensare tanto tanto lo senti lo vedi tanto quindi è lui insomma un po l'artefice di tutto passiamo il microfono a francesca maria io ti invidio perché tu hai mollato tutto poco prima ok a te invece quella la parte più bella loro sono due atlete artiste quindi hanno un grande futuro davanti e non vi dimenticate di noi però qual è la parte più bella o quella che vi ha colpito di più che vi ha più motivate la parte che ho sentito molto più vicino a me è la parte appunto sul trasfigurare la chiesa perché appunto qui si parla innanzitutto si parla di un dimagrimento della chiesa appunto che in realtà va avanti da anni ma che semplicemente la pandemia ha velocizzato e appunto si parla del bisogno dell'avere una comunità più unita una comunità che deve essere pronta non solo a un cambiamento ma anche a delle eventuali perdite perché si sa che ogni cambiamento con sé porta anche delle perdite che non dobbiamo vedere come sconfitte ma appunto come delle vittorie perché se ci portano a raggiungere il nostro obiettivo appunto non sono un qualcosa di negativo inoltre appunto si parla anche di dover dare tre risposte a questo dimagrimento e la prima è quella che mi è piaciuta molto molto perché appunto si parla del fatto che la chiesa si deve aprire non deve blindarsi nei soliti edifici dove appunto di liturgia dove si fa catechismo ma bisogna appunto scendere in piazza parlare dialogare senza giudicare e dico che l'ho sentito molto vicino perché penso che molti giovani a me lasciano la chiesa proprio perché si sentono giudicati e penso che parlo da adolescente un adolescente non ha tanto bisogno di un qualcuno che gli dice no guarda questo non lo fare perché è sbagliato o peggio ancora qualcuno che giudica le tue scelte i tuoi errori perché sbagliare fa parte della vita ma penso che almeno io personalmente preferirei qualcuno che abbia sempre le braccia aperte e mi dica sì è vero è sbagliato però puoi andare avanti puoi riniziare e appunto questa parte mi è piaciuta molto inoltre si parla anche di una seconda risposta appunto ossia che dobbiamo la chiesa appunto c'è una parte no c'è una frase del cardinal Carlo Maria Martini Maria Martini che dice che la chiesa è in ritardo di due secoli rispetto al cammino della società aveva visto lungo perché appunto dobbiamo ammettere che la chiesa ha delle strutture no che equivalgono che potevano andare bene nei tempi dove la donna veniva vista ancora come un oggetto che era fatta per stare in casa per cucinare diciamo per accudire i figli oppure dove un uomo sessuale veniva scartato dai margini della società o una persona considerata diversa veniva abbandonata invece no la chiesa deve rispondere alle esigenze della società e la società va avanti quindi la chiesa non può permettersi di rimanere in questi ideali in più un'ultima risposta appunto è la mancanza di umiltà e autocritica che c'è stata dopo i diversi scandali finanziari appunto anche sessuali della chiesa e io penso che questa mancanza di autocritica abbia fatto non solo agli occhi di chi non è credente ma anche agli occhi dei credenti stessi abbia cioè ci abbia fatto pensare una chiesa che abbia soltanto voglia di apparire come bella e potente mentre no penso sia più importante una chiesa che pensa poco a come appare ma pensa di più a dare il proprio massimo per aiutare il prossimo non bisogna tanto preoccuparsi della reputazione non bisogna perdersi con le belle parole ma dimostrare attraverso i fatti appunto non solo bella di facciata grande, brava Francesca come dice anche nella lettera pastolare riprendo un passo di padre Franco gli adulti sono il problema, i giovani le soluzioni vero? allora lo trovate poi nella lettera questo riferimento gli ultimi 20 minuti li abbiamo a disposizione già cominciamo ok, lui è Pasquale prendi il microfono però Pasquale buonasera a tutti io non sono un grande oratore per chi mi conosce sa che mi do da fare più dietro le quinte a fare qualcosa questo è un simbolo la tovaglia di casa le sfide che ci ha appena menzionato Don Salvatore sono bellissime però io l'ho voluta vedere insieme alla mia famiglia da dentro casa allora se mi permettete se non risulto blasfemo non lo so allora intanto che lui apparecchia Pasquale il papà marito Daniela Angelo Irene e Davide e poi insomma vedremo come hanno risposto o cosa come hanno riflettuto sulla terza parte della lettera pastorale di padre Franco Moscone prima che cominciamo insomma a sentirvi parlare di queste cinque sfide pastorali so che Daniela come me ha cominciato a leggere la lettera dalla fine sperando di trovare già la soluzione a volte facciamo così noi mamme noi donne ecco però poi insomma siamo ritornate indietro abbiamo capito e compreso meglio tutto quello che voleva dire padre Franco e quando parlate di carità fede speranza di coraggio di responsabilità a casa che cosa succede? allora succede che in genere per questioni lavorative lei è al lavoro e quindi sono io che vi devo dare da fare a cucinare e quindi chiedo a loro dai apparecchiate fate insomma do dei comandi però la cosa bella è che ognuno di loro si si dà da fare e anche il semplice mettere il tovagliolo per tutti quanti mi dà l'idea della loro carità perché non è mettersi a posto solo il loro posto no è pensare a papà mamma e quindi credo che questo sia il vero senso della carità donarsi agli altri senza aspettarsi qualcosa in cambio perché tanto alla fine cioè loro avranno solo il pasto della giornata non è che devono avere chissà cosa però guardarli darsi da fare per tutti è bellissimo e questa cosa la viviamo molto anche quando facciamo i campi scuola purtroppo non c'è stato modo in questo ultimo anno per via del covid però quando è dei campi scuola ci sono 40 50 ragazzi e li vedi impegnati a dialogare a cercarsi a guardare allora tutto lo sforzo che uno fa per fare 40 vasti passa in un niente e vedere tutti insieme a me questa è la gioia più grande vederli tutti insieme mangiare mi dà quel senso del fare e come diceva padre Franco abbiamo bisogno del grido della fame della carità e carità significa amare in realtà e niente quindi ora scusatemi ho finito di dire le mie cose e passo la parola loro che sono più bravi come andiamo avanti con Daniela no Angelo Angelo tra l'altro apro una piccola parentesi lo so che non ci piacciono i titoli non ci piacciono però per dimostrare anche ecco quanto la famiglia sia stata importante nella trasmissione della fede testimoniandola lui è segretario del MSAC il movimento studenti di azione cattolica giovanissimo già impegnatissimo con insomma un grande futuro davanti sì sì io volevo continuare quello che diceva papà mentre lui vede da fuori noi che ci adoperiamo nelle attività io la vivo da dentro essendo comunque figlio di ho fatto tanti e tanti camposcuola e ho vissuto più volte vari tipi di attività e il fatto bello è che tutte le attività le ho vissuto in momenti diversi della mia vita e ho avuto diverse emozioni e questo è la carità che parla proprio perché la carità ti dà delle emozioni sempre diverse partendo non lo so dal vedere un sorriso di un bambino al Grest fino ad arrivare poi a a vedere il tuo bambino di ACR affacciarsi alla vita lavorativa oppure affacciarsi alla scuola a fare le scelte del proprio futuro e diciamo questa anche se comunque ho 18 anni quindi non è che però mi sento diciamo molto carico da questo punto di vista Irene e continuando con la storia dei campi scuola di tutto questo che abbiamo imparato una cosa che mi sento di dire è che la carità a volte è come se fosse il mezzo per raggiungere qualcosa di di più e se la carità è il mezzo è chiaro che la domanda è lecita e serve l'obiettivo e l'obiettivo è quello di testimoniare la chiesa e testimoniarla con i fatti con i campi con tutto quello che facciamo in parrocchia ma anche fuori a casa in famiglia e quindi se la carità è il mezzo allora l'obiettivo è sicuramente testimoniare quanto sia bello essere chiesa non solo a casa ma anche in parrocchia a scuola da un punto di vista politico dell'impegno civile per una cittadinanza che punta ad essere una cittadinanza costruita insieme e quindi credo che appunto la carità sia il mezzo attraverso il quale essere testimoni di chiesa vera e bella Davide io anche essendo piccolo ho vissuto delle esperienze di carità perché anche mentre loro fanno gli incontri con i giovani io sto con i bambini più piccoli per non disturbare i genitori e quindi mi diverto con loro e mi mi sento come un fratello maggiore per loro perché diciamo viviamo praticamente tutte le esperienze della parrocchia insieme un po' vittima e un po' artefice bravo e poi c'è la mamma Daniela moglie e niente io mi emoziono sempre perché come se fossero figli tuoi esatto vederli vedere i miei figli protagonisti partecipi nella vita di comunità mi emoziona ma sempre tanto tornando indietro con la memoria una delle sfide è trasmettere la fede oggi beh io quando erano piccoli me lo sono chiesto come faccio a trasmettere la fede ai miei figli e anche perché mi capitava di vedere tutti spesso i figli dei miei punti di riferimento nella mia crescita di fede molto lontani quindi io ho detto beh se io ci sto sempre dentro prima o poi i miei figli andranno via quindi mi sono posta questo problema cercavo delle ricette già preconfezionate con le istruzioni come fare non ne ho trovate quindi purtroppo niente e ad un certo punto ci abbiamo provato insomma abbiamo detto mettiamoci in gioco anche noi quando i nostri ragazzi sono cresciuti erano nell'età in cui cominciavano il catechismo il gresti i giochi in parrocchia un sano egoismo lo chiamava un nostro caro amico ci ha fatto pensare di rimetterci con le mani in pasta e quindi abbiamo cominciato a dare la nostra disponibilità in quello che era utile in parrocchia per cui non abbiamo detto tanto prima prima di me qualcuno diceva dire non serve non credo che abbiamo detto tanto però abbiamo fatto tanto insieme a loro quindi credo che la testimonianza sia il punto di forza nella trasmissione della fede fare insieme le cose ed è guardarvi guardate come si amano lo dicevo prima anche alle altre famiglie che sono intervenute guarda come si amano si vede insomma dai vostri occhi da quello che raccontate soprattutto Davide io volevo aggiungere una cosa su quello che ha detto mamma cioè fare delle cose insieme in chiesa o comunque in tutta la vita in tutta la nostra vita qualche volta mi è capitato di vedere alcune celebrazioni particolari dove noi siamo protagonisti per esempio per esempio nella veglia della notte di Pasqua loro due hanno hanno danzato un salmo che allora non eravamo solo io e Angelo per fortuna perché c'erano tanti altri nostri amici però vi riporto questa testimonianza anche nell'inserire la sfida che padre Franco ci riportava di cambiare la liturgia di renderla più vicina a tutti in modo tale che sia una liturgia bella sentita e vera e non qualcosa di sorbito da qualcuno e vi riporto questa piccola testimonianza noi abbiamo attualizzato il salmo 117 e abbiamo vestito i panni di alcuni profughi travolti dal mare abbiamo utilizzato questi nastri blu e li muovevamo come se fossero delle onde e questa cosa è stata particolarmente significativa perché era come se davvero noi ci stessimo immaginando queste onde che cavalcavano le nostre teste i nostri corpi come succede purtroppo a tanti che intraprendono quel viaggio e ci siamo emozionati quando sono ritornata al mio posto mi sono accorta che comunque in chiesa la celebrazione aveva una luce tutta diversa cioè le persone erano proprio si erano calate nel momento in cui quelle persone così lontane in mezzo al mare si siedevano a fianco a noi e quindi è stato particolare bello emozionante poter vivere quella immaginare la vita e il percorso che quei ragazzi fanno che non è poi così facile e quindi appunto ci siamo un attimo riportati sulle onde di questi ragazzi per vivere una celebrazione più sentita più profonda e appunto ci siamo immaginati questi ragazzi ed è stato particolarmente bello perché abbiamo poi visto davvero negli occhi di tutti quanti quanto quella storia che noi avevamo raccontato semplicemente facendo muovere dei nastri azzurri era arrivata davvero dentro e la liturgia da allora è cambiata la celebrazione è diventata un momento di raccolta tutti insieme e da questi piccolissimi gesti che in realtà la celebrazione prende una luce particolare padre Franco nella lettera ci dice che è importante mettere una liturgia più particolarmente creativa tra tantissime virgolette per cercare di arrivare sempre a tutti e abbiamo scelto questo modo particolare di metterla in evidenza ma lo stesso semplice cantare è un modo per rendere la celebrazione una vera celebrazione forte e ricordo quando per esempio andiamo ai campi nazionali che nel momento in cui si celebra la liturgia non si punta speriamo che finisce prima così poi andiamo a fare le attività si punta a imparare insieme i canti a suonare insieme e il bello che io trovo all'interno della liturgia fatta in questo modo è che in realtà la liturgia non è fatta solo dal sacerdote ma la facciamo tutti insieme e quindi così come il cantare è un momento di comunità così noi abbiamo trasformato questo salmo 117 in una sorta di danza in una sorta di danza come se volessimo celebrare quelle vite che fanno questo viaggio particolarmente faticoso ed è importante anche questo in una celebrazione quindi questo è quello che mi è arrivato dalla lettura di quel passo della lettera e ve lo volevo riportare io invece ricordo quanto è stata bella una messa fatta un paio di anni fa da un campo a scuola a Roma dove togliendo i balletti i canti che si rendono molto bella la liturgia proprio un momento liturgico Don Salvo ci ha invitato anziché darci un segno di pace a darci un abbraccio di pace e quel momento è stato molto sentito perché era la messa finale del campo scuola e quindi diciamo tutti quanti eravamo pieni di lacrime infatti quella messa ricordo durò due ore con 40 minuti di questi abbracci e diciamo è stato un momento importante per la mia vita perché ricordo la scena in cui papà viene vicino a me mi abbraccia e dice sono orgoglioso di te questo momento è stato un momento troppo importante per la mia vita e quindi volevo condividerlo con voi e noi ringraziamo noi ringraziamo tra le cinque sfide presenti nella lettera quale Daniela sembra vi sembra quella più difficile da superare allora a mio parere la più difficile è la quarta sfida cioè essere e costruire la comunità credente e credo che sia racchiuda in sé proprio la fatica e la difficoltà di crescere una famiglia perché abbiamo sentito i ragazzi hanno detto tante volte come è bello fare le cose insieme ma proprio perché si fanno insieme è faticoso perché da soli siamo per forza bravi perché lo facciamo da soli ma insieme dobbiamo tenere conto delle diversità delle diversità di opinione dobbiamo avere a che fare con il perdono se le aspettative magari vengono meno per cui questa credo che sia la sfida più grande qual è potrebbe essere la strategia siccome la comunità per me è una famiglia di tante famiglie noi veniamo dalla sacra famiglia per cui è così forse immaginare la comunità come una famiglia veramente quindi fare casa forse potrebbe essere una strategia possibile una cosa che io racconto spesso quando capitano questi incontri diocesani è l'esperienza che noi abbiamo fatto con i giovani della nostra parrocchia del Cine Pranze Forum che non è niente di particolare abbiamo invitato anche padre Franco una volta in pratica un gruppo di giovani si incontra un sabato del mese dopo la scuola viene in parrocchia pranza e si vede un film insieme agli educatori alle famiglie che preparano il pranzo quindi viviamo un momento di casa come ha fatto Pasquale prima esattamente quella è proprio la nostra caratteristica ci ci identifica e quindi facciamo casa e devo dire che nonostante la pandemia nonostante quindi questa questa lontananza apparente che abbiamo avuto con i nostri ragazzi i legami sono rimasti forti come erano perché sentono il luogo della chiesa in particolare della parrocchia e sentono noi che stiamo intorno veramente famiglia e questa è una cosa che trovo molto interessante io penso che siamo forse arrivati al limite c'è qualcuno di voi che vuole aggiungere qualcosa perché cosa potrei chiedere magari ai giovani ecco cosa manca agli altri giovani quelli che non sono fortunati come voi a vivere in una famiglia così credente e praticante cos'è che manca hanno paura di perdere tempo hanno paura di perdere spazio amici gloria il contrario a quanto pare io penso che ciò che manca agli altri giovani è proprio la finalità che noi abbiamo infatti dopo una serie di incontri fatti anche con Don Pasquale col Mzac ho imparato che la differenza tra noi giovani cristiani e gli altri è proprio il fatto che noi abbiamo un fine cioè quello di testimoniare la fede quindi rispetto alla quinta e ultima sfida di cittadini responsabili è proprio questo noi dobbiamo partire dobbiamo essere luce verso gli altri infatti a me faceva riflettere molto che in soli sei anni tre comuni sono stati sciolti per mafia come diceva prima Domenico e sono temi che noi in primis noi studenti fra un anno ci ritroveremo di fronte quindi io voglio fare un invito a sacerdoti educatori lasciateci essere credenti e cittadini lasciate leggere questa lettera a tutti noi giovani perché mi è capitato molto spesso di trovarmi di fronte a educatori che pensano che noi diciamo possiamo parlare di temi come l'amore l'amicizia che si sono temi importanti però ciò che ci tocca più da vicino è temi come la legalità l'ecologia quindi lasciateci essere cittadini possiamo dire che è una lettera anche per i giovani anche e soprattutto per i giovani non solo per i vecchi i vecchietti Pasquale a te la conclusione se vuoi volevo scusarmi però mi sa che hanno mangiato bene bella bella complimenti parto da una osservazione che viene dal Talmud dove ci viene detto che la parola di Dio non ha una sola interpretazione ma ne ha molte e secondo alcuni non ne aveva solo 70 70 era il segno della perfezione ma ne aveva almeno 71 perché quando eri arrivato lì la parola di Dio era così profonda che ne aveva ancora altre detto questo non perché questo testo abbia 70 o 71 interpretazioni ma di sicuro ne ha di più di quella letterale già la lettura del titolo può essere fatta in due modi diversi volevo dirlo stasera il modo che anch'io ho utilizzato per primo e che passa alla lettura è con Cristo trasfigurati per un territorio e popolo di trasfigurati e senza dubbio un desiderio di metterci in una prospettiva in un fine hanno detto anche tutte e tre le famiglie leggendo parte del testo ma basterebbe cambiare un accento e allora dico con Cristo trasfigurati per un territorio e un popolo di trasfigurati e ovviamente vi rendete conto e mi rendo conto che non è più solo una prospettiva un desiderio un obiettivo un programma un progetto chiamiamolo come vogliamo ma letto in questo modo diventa un impegno diventa in qualche modo uno sforzo etico se il primo ci dice il cuore l'immagine e la bellezza verso cui miriamo la seconda lettura dice allora quel cuore quello sforzo quella bellezza la pago sono disponibile a percorrerla e diventa il mio impegno ecco questo era per chiarire il titolo la seconda cosa che vorrei dire è stato osservato come se fosse una lettera mia non è così non è così ho un nipote che che vuol fare regista a 26 anni e sta facendo e mi ha spiegato qual è il ruolo del montatore beh questo testo il mio lavoro è stato quello di fare il montaggio il montaggio ovviamente poi ognuno lo fa con il suo stile con la sua storia con la sua preparazione anche con insomma le sue idee che lo hanno accompagnato nel percorso della sua vita con i doni che si è trovato per cui lo stile diviso in tre parti lo trovate in tutte e tre i testi che ho preparato quindi c'è un qualche cosa che si ripete ma questa volta vi devo dire che è stato veramente da parte mia un'azione di montaggio per cui potrei dire che questo testo l'avete scritto tutti voi qui presenti e altri non presenti perché non credo che siano venuti tutti quelli delle nostre comunità credenti della diocesi e del Gargano e altre persone anche non credenti o che non sanno neppure di aver collaborato allora voglio ringraziare tutti in questo senso e dirvi guardate che è qualche cosa non di mio di nostro è un tentativo di passaggio dall'io al noi che è poi l'essere e costruire comunità una delle cinque sfide finali a chi debbo il lavoro che poi mi son fatto come montaggio beh per la prima parte quella dedicata all'analisi dell'icona dell'icona biblica il testo di Luca e nel testo c'è scritto anche perché ho preferito Luca rispetto a Marco e Matteo o al testo della seconda lettera di Pietro dove si parla della trasfigurazione beh la parte diciamo più esegetica ho chiesto a qualche d'uno di scrivermela di darmi dei mezzi e me li ha dati poi l'ho rimesso insieme la parte che ho chiamato esistenziale e ho detto anche chi me l'ha scritta un amico giovane studente in questo momento è in Romania in un in un incontro interreligioso cattolici ortodossi e musulmani la terza parte quella quella relativa ai tre passaggi che ho visto che la prima famiglia che l'ha presentata l'ha sottolineato molto il salire il sostare il scendere sì lì ci ho messo più di mio ma c'è anche qualche cosa che ho trovato e regalatomi da alcuni che sono qui presenti in particolare da uno che non ci quindi già questa prima parte è un montaggio la seconda che è quella più tosta e che ha le caratteristiche forse anche di schiaffi a volte da dare o scrolloni da far sentire i cinque settori che ho definito da trasfigurare e anche frutto di letture e di scritti alcuni di persone del nostro ambiente domani devo andare a presentare il libro del dottor Nicola di Bari il futuro della nostra città e beh l'ho letto e devo dire che quasi tutta la parte alledativa al lavoro al trasfigurare il lavoro di questo nostro territorio di questo nostro ambiente la devo a questa lettura dove fa un riferimento particolare a Manfredonia ma riguarda fondamentalmente l'insieme del territorio garganico e della Capitanata così su quello che riguarda soprattutto l'atteggiamento e il dare futuro ai giovani mi sono stati utili due librettini sono intensissimi però come lettura di un professore universitario nostro contemporaneo che si occupa dei diritti delle generazioni future cosa non facile che Fernando Manga due librettini lo scandalo del futuro e la scommessa del futuro vi assicuro che non è facile digerirli uno l'abbiamo presentato anche alla parrocchia della Sacra Famiglia non mi ricordo più se era all'inizio la scommessa sul futuro all'inizio di luglio così per buona parte della pastorale il testo di Armando Matteo che il Papa ha indicato e messo alla congregazione della fede un pastoralista alla congregazione della fede cosa rarissima pastorale 4.0 e poi ovviamente li trovate citati tutti alcuni articoli presi dalla Repubblica dal Corriere questo per quanto riguarda la seconda parte quindi è anche lì un montaggio con uno sguardo particolare al nostro territorio ed ambiente la terza parte che è la più breve sì in realtà è la più breve perché abbiamo sintetizzato tantissimo ma a me piacerebbe che almeno sul sito internet riuscissimo a riversare tutto il materiale che ci è arrivato e che ha anche caratteristiche di sintesi viene fuori un altro testo così se non di più perché che è tutto il percorso chiamato che abbiamo chiamato sinodale iniziato fine gennaio inizio febbraio e portato avanti fino a giugno inoltrato quando mi è arrivata la parte finale delle sintesi fatti dai cinque di cui Don Salvatore prima ha parlato ma prima c'erano le sintesi di Vicaria c'erano le sintesi degli uffici di Curia e vi assicuro che sono ricchissime e mi piacerebbero che rimanessero soprattutto quelle delle Vicarie perché poi il lavoro che si propone ha uno svolgimento di tempo e di geografia sulle Vicarie ricordarsi che sintesi si era fatta e da cui si è partito se no come arriviamo poi a fare la verifica ecco quindi questa parte finale la terza in realtà è veramente una sintesi di un lavoro molto ampio di cui sono contentissimo di cui eravamo già in parte abituati perché io ricordo il primo convegno quando sono arrivato qui aveva già questo stile mi erano arrivate delle osservazioni dei questa volta forse siamo stati un po' più metodici incisivi partiti a gennaio per cui tutte le parrocchie si sono date da fare ecco è stato quello che il Papa chiama il percorso ostile sinodale perché c'è differenza tra sinodo e sinodalità c'è una differenza enorme il sinodo è un evento l'ultimo sinodo della chiesa di Manfredonia mi è stato detto è stato fatto dall'85 al 90 durante l'episcopato di Monsignor Valentino Vailati e si è chiuso esattamente al termine del suo episcopato e c'è un buon volume quello è un evento lungo altre volte pensiamo al sinodo universale dura l'evento due settimane 15 20 giorni e poi si produce un testo che poi magari si dimentica e non si considera più mentre la sinodalità è un modo di agire di pensare di dialogare di vivere e poi di provare a sfidare quanto ascoltato pensato e proposto insieme ecco questa questa parte queste ultime 20 pagine ecco sono essenzialmente il frutto di quasi sei mesi di vostro nostro lavoro e che danno le prospettive di un possibile percorso quinquennale vorrei chiudere dicendo che forse da quando giochiamo sul numero 5 io sono arrivato in diocesi quando eravate al numero 3 perché il percorso inizia con la lettera pastorale del 2015 2016 di Monsignor Castoro sulla misericordia perché era l'anno della misericordia e sui cinque verbi cosiddetti del congresso nazionale ecclesiale di Firenze uscire uscire annunciare abitare quando sono arrivato era quell'anno lì educare e trasfigurare siamo andati avanti per sei anni abbondanti e siamo a questo verbo trasfigurare il quinto e che ci apre un percorso di un possibile quinquennio mi fa paura il quinquennio perché i progetti dell'Unione Sovietica del partito comunista sovietico erano tutti progetti quinquennali non ne avevano realizzato uno in quasi 60 anni di esperienza per cui mi fa paura il quinquennio però stiamo giocando sul cinque erano cinque i verbi sono cinque le nostre le nostre vicarie quindi la nostra geografia la nostra geografia diocesana è divisa in cinque non so come sia nata questa divisione forse qualche d'uno soprattutto dei sacerdoti più anziani potrebbe dirmelo ma non è importante questa è la realtà è la nostra geografia pastorale la nostra geografia pastorale quindi teniamo conto che forse il metodo può funzionare cinque anni cinque vicarie cinque sfide che ogni vicaria si impegni su una ogni anno ci si mescola e alla fine tutti avremo cercato di impegnarci su tutto e faremo il conto finale se veramente questo trasfigurare si verifica o si dimostra possibile perché dei cinque verbi era di sicuro il più strano no? tutti gli altri li conosciamo molto bene perché fanno parte della nostra vita fisica cosa vuol dire uscire cosa vuol dire annunciare parlare cosa vuol dire abitare che cosa vuol dire educare anche se ci pesa trasfigurare come lo leggevamo come una pagina della Sacra Scrittura che avviene il 6 di agosto che ogni tanto capita o come come una metamorfosi che non è questo il significato come un momento così di bellezza di fatti nel convegno di Firenze veniva legato fondamentalmente alla liturgia lo sforzo a mio giudizio che dobbiamo fare e che proponiamo e che insieme attraverso questo percorso e che questo trasfigurare entri veramente nella nostra vita e raggiunga e raggiunga il significato della bellezza che oggi probabilmente l'unico linguaggio che capiscono tutti non c'è più un linguaggio della verità neppure della scienza sto parlando forse qui ci sono tanti medici ma sul dibattito vaccini non vaccini no vax si vax alla fine andiamo in internet che cosa andiamo a cercare il percorso scientifico la certezza o andiamo a cercare ciò che conferma ciò che penso già io credo che il più delle volte andiamo a cercare ciò che conferma ciò che ho già in testa allora quel linguaggio lì a cui eravamo molto abituati siamo figli dell'illuminismo non funziona più come trasmissione di fede di idee di dogmi di ortodossie funziona forse quello etico morale forse ancor meno probabilmente quello che funziona o può funzionare è il terzo ossia quello della bellezza dell'estetica forse la mia deformazione di studi filosofici mi fa pensare a Kant non vale la critica della ragione pura sulla scienza o la verità non dice più niente alla ragione pratica sull'etica e la morale ma quella del giudizio ossia su ciò che mi tocca al cuore e mi dice sì questo è bello forse è quello che ci ci può ancora trasformare in missionari credo che questa sera anche attraverso così lo snocciolamento di questo testo da parte di tre famiglie abbia detto qualche cosa di bello e soprattutto abbia detto che la famiglia sta in piedi e la possiamo presentare ai giovani se è bella prima ancora che se è un gruppo o un'entità firmata da un contratto ma se dice la bellezza di una vita non siamo non siamo più dei dei coloro che fanno proselitismo o attraiamo attraverso il nostro essere belli oppure rischiamo ecco di stare a perdere tempo e di contarci sempre meno non so che cosa aggiungere ecco di presentazione di questo testo che ripeto è di tutti è nostro e vorrei veramente che fosse sentito così di modo che il gioco dei cinque dai cinque verbi alle cinque sfide attraverso le cinque vicarie che è la nostra geografia ecco veramente metta in moto un cammino uno stile che sia bello e forse anche un po' piacevole e che quindi ci faccia essere in questo territorio in mezzo al nostro popolo portatori ecco di significato di novità senza paura anche quando siamo chiamati a dire cose che magari non sempre piacciono o non avremmo voluto dire ma dirle in modo bello in modo empatico ecco questo sì questo forse ci aiuterà ad essere veramente una chiesa che ancora parla ai cuori essere parte di un popolo che collabora a far diventare più civile la nostra società in cui siamo grazie per avermi ascoltato grazie